Splendido era, con un'umanità incredibile, gente veramente serena, tranquilla, l'unico dispiacere che avevo è di non poter parlare il cinese, quindi avevo bisogno sempre di un interprete. 8 e 10 viaggi che ho fatto, che vanno dal 73 al 94. Mi ricordo queste montagne, questi edifici, questi ancora antichi, eccetera, eccetera, una cosa di un paesaggio veramente incredibile. E la struttura era di queste case, di queste montagne, eccetera, eccetera, sembra una cosa che in Italia non esisteva. Non è possibile raccontare la via della seta in una settimana. Secondo me il progetto così è stupendo. È stupendo perché è un amore, come si può dire, modernizzare il mondo.